non ho capito scusa ma perché non risolvi sta situazione cargero ormai se risolvi ormai tutto su instagram ormai per strada sei antico ormai ormai no ma non è che sono antico però quello t'offenne tu moglie t'offenne le cose perché non va più a offendono tutti mi moglie fratelli però se stanno offese offese se t'offenne non per strada e in un finalina non c'è problema se i soldi mi posso fare offendere mi moglie mi padre mi madre che me frega fratelli tanto guadagno capito vabbè vabbè quello se lo passo la domanda per essere tutto a posto come va la vita è mastercard amico mio per tutto il resto c'è mastercard allora fammi vedere questo ma che ci siamo a cagare dal cazzo per dica la verità vi dico la verità che ci siamo a cagare dal cazzo questo